Saranno sei le liste che concorreranno alle elezioni per l'assegnazione dei dodici seggi del Consiglio della provincia di Barletta-Andriatrani, previste per il prossimo 18 dicembre. Si tratta di elezioni di secondo grado. Non saranno cioè i cittadini a votare, ma solo sindaci e consiglieri comunali. Pertanto le urne saranno aperte per appena 185 elettori, oltretutto con il loro voto che non ha lo stesso peso, ma varia da città a città, a seconda del numero di abitanti. Si chiama voto ponderato e fa parte della contorsione mentale di chi ha voluto questa assurda legge elettorale. Tornando alle liste, una l'ha presentata il centrodestra, una il Movimento 5 Stelle e quattro sono ascrivibili al centrosinistra. Quella di centrodestra è composta da dieci nomi. Emanuele Cozzoli di Trani, Ludovico Peschèchera di Trinitapoli, Michele Nobile e Marilena Schiavo di Minervino, Pasquale di Trani, Bruna Glionna e Pasquale di Noia di Spinazzola, Gianluca Grumo e Donatella Fracchiolla di Andria ed Elena Muoio di Margherita di Savoia. Sei nomi dei Cinque Stelle, Vincenzo Coratella di Andria e Francesco Cignarale, Giovanni d'Avanzo, Maria Fortunato, Maria Porro e Costanza Santulli, tutti di Canosa. Riguardo il centrosinistra, una lista con sei nomi è del Partito Democratico, Lorenzo Marchiorossi di Andria, Federica Cuna di Trani, Rossano Sasso di Biceglie, Anna Maria Tarantino di Trinitapoli, Antonio Imbrici di Canosa e Daniela Rondinone di San Ferdinando. Tutti di Andria invece i sei candidati delle civiche di centrosinistra che sostengono il sindaco Giovanna Bruno, Emanuele Sgarra, Nunzia Leonetti, Daniela Maiorano, Francesco Bruno, Marianna Sinisi e Giovanni Vilella. Sette i nomi della lista del presidente Lodi Spoto, Fabio Capacchione e Rosario Giacomo De Michele di San Ferdinando, Donata Di Meo di Trani, Carla Mazzilli e Pierpaolo Pedone di Biceglie, Stefania Rubino e Savino Tesoro di Margherita di Savoia. L'ultima lista ad essersi formata è quella dei popolari e riformisti BAT che vede tra le anime più attive Francesco Spina. A compor la varia umanità da Claudio Biancolillo che il consigliere regionale Tuputi aveva indicato in quota con nella lista del presidente e che invece ha virato sui popolari, Tommaso Laurora, sempre di Trani, già candidato sindaco e già sostenitore di Caracciolo, sua sorella Erika Laurora, l'ondivago Antonio Conte, sempre pronto ad essere rigiocato, di destra ma a sostegno della sinistra che ora guarda al centro e Mariangela Scialandrone per un totale di cinque tranesi a cui si aggiungono Rosa Scognamillo di Margherita e Vincenzo Montrone di Andria. Quest'ultimo non sosterà quindi sui colleghi di maggioranza della lista promossa da Giovanna Bruno, il che significa che la sua civica, a questo punto ironicamente chiamata futura, avrebbe fatto bene a chiamarsi senza futura. Sarà una battaglia divertente, molti dei candidati sono di bandiera, indicati solo per raggiungere il minimo necessario di sei, tre uomini e tre donne. La maggior parte prenderà quindi zero voti, il che apre a un mercato delle vacche fatto da trasversalismi e tradimenti di ogni genere. A proposito della lista dei popolari, va detto che non si tratta di quelli di Cassano, ma dei popolari di Stea, il cui segretario regionale Ruggeri Totò, viste le premesse di queste elezioni, Totò non poteva mancare.